Arco Latino come collabora a questi progetti di cooperazione di HydroAid? La prima cosa da dire è che Arco Latino risponde a una richiesta della città metropolitana, molto sensibile al tema dei cambiamenti climatici e agli effetti che hanno sull'acqua uno degli elementi base per uno sviluppo sostenibile. Credo che questo possa essere l'inizio di un dialogo interessante tra l'Europa sviluppata e l'Africa che deve ancora svilupparsi. Entrambe si devono unire in relazione all'acqua, un elemento di cui a volte ci dimentichiamo che scarseggia. Il problema dell'acqua è anche uno degli obiettivi delle Nazioni Unite nell'agenda del 2030. E' anche un dialogo fra le due sponde del Mediterraneo, nord e sud. Non dobbiamo guardare solo i nostri piccoli problemi, ma dobbiamo guardare i grandi problemi del mondo. Le amministrazioni locali, la città metropolitana, Arco Latino, che rappresentano le amministrazioni intermedie dell'Arco Mediterraneo, sono le prime ad essere preoccupate nel riconoscere il problema e a provare ad affrontarlo a partire dal proprio territorio.